gentili telespettatori buona giornata il capo della lega salvini dice sono stati corretti sia di maio che la morgese era la linea del governo decidevamo insieme e festeggiavamo insieme ho sentito una ricostruzione corretta e coerente dei fatti matteo salvini più tranquillo quello apparso ieri per l'ennesimo colloquio con il gup giudice per le udienze preliminari il terzo che dovrà decidere san pietro quello del ristorante a roma che dovrà decidere se aprire il processo rinviando a giudizio matteo salvini o chiudere il tutto perché il fatto non sussiste o i fatti non sostituiscono nessun tipo di reato quindi salvini è l'aula bunker a catania per il caso gregoretti con di maio e la morgese quindi un assist per salvini proprio dall'attuale titolare del viminale luciano la morgese e dall'ex collega luigi di maio agli esteri ascoltati ieri dal giudice per l'udienza preliminare nunzio san pietro e perché come prima il nemico salvini lo mandiamo a processo la doppia morale dei cinque stelle e adesso forse sarà perché la lega governa insieme agli ex avversari ma sembra veramente qualcosa di assurdo sta di fatto che furono proprio pd e 5 stelle a votare l'ok all'iter che ha poi portato il segretario della lega a finire davanti al giudice ma ora la linea sembra diversa entrambi i ministri hanno infatti confermato la linea adottata in seno al governo conte 1 di cui il leader della lega faceva parte di avere dall'europa l'impegno di ridistribuire i migranti scelta che poi è costituito una continuità anche nel corso del del governo conte 2 e la lamorgese non ha potuto dire niente perché 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 io le piacevo no quello era adriano cerentano ma perché la lamorgese dice sì c'è una continuità nel governo conte 2 perché i magistrati l'hanno chiamata proprio cosa c'entra la lamorgese che c'entra la lamorgese che è arrivata nel governo conte 2 ovvio hanno chiamato la lamorgese perché durante il governo conte 2 quando c'erano le elezioni regionali ve le ricordate le elezioni regionali prima gennaio e poi l'altro non mi ricordo in che mese erano magicamente durante e prima nei giorni precedenti alle elezioni regionali i clandestini sulle ong venivano lasciati a galleggiare in acque internazionali senza l'autorizzazione ad entrare nelle acque nazionali e c'è una nave che è stata dieci giorni a galleggiare dieci giorni non tre gregoretti dieci giorni e chi l'ha fermata il governo con la lamorgese e c'erano le elezioni regionali se facciamo arrivare i clandestini possono mettere i bastoni tra le ruote alla sinistra e allora avevano fermato i clandestini solo che i giornali zitti giornali compiacenti fiancheggiatori del governo di sinistra tutti zitti no tutti zitti e i magistrati dieci giorni tutti zitti c'è qualcuno che ha indagato la lamorgese per dieci giorni a galleggiare no no il fatto non sussiste ma non è sequestro di persona no ma chi lo dice chi l'ha detto insomma e per salvini salvini sì no salvini è un cattivo di centrodestra la lamorgese è un tecnico di sinistra e avete capito you understand a one again comunque questa è la realtà e per quello che la lamorgese dice insomma c'è continuità perché lei l'ha fatto l'ha fatto uguale a salvini solo che il salvini lo faceva per redistribuire i clandestini la lamorgese il governo lo facevano perché c'erano le elezioni e non mi sembra proprio la stessa cosa e non mi sembra mi sembra molto più grave o mi sembra grave l'atteggiamento della lamorgese non quello di salvini che faceva pressioni sull'europa per redistribuire i clandestini e insomma quindi l'aiuto di luciana lamorgese non è propriamente quello che sembra e non è perché adesso salvini alla lega perché deve difendere il suo operato lo sa perfettamente che ha lasciato a galleggiare le navi lì fuori perché c'erano le elezioni regionali e nessuno lo dice vero è qual no ne avevamo parlato già ai tempi è c'erano anche degli articoli sui giornali ovviamente giornali di centrodestra è giornali di centrodestra quindi come ricordo si ricorderà salvini è accusato appunto di sequestro di persona per per abuso d'ufficio giuliana buongiorno dice durante questi presunti sequestri nessuno si è fatto male anzi abbiamo svaliggiato l'europa anche draghi nel suo primo intervento ha parlato di una politica di rimpatri che è merito della nostra azione a rischiare 15 anni di galera sono io ha detto ancora tutti pontificano tutti chiacchierano ma in aula bunker dove ci sono i processi di mafia c'è salvini da imputato la buongiorno ha tenuto a dire che il messaggio che è passato delle testimonianze era che c'era una linea di governo condivisa che prevedeva che prima venissero ridistribuiti i migranti e poi si procedesse allo sbarco credo che la testimonianza della lamorgese sia stata veramente decisiva credo che queste ultime testimonianze siano state utili per darci la panoramica che questo punto ci può portare alla conclusione del tutto gli unici a storcere il naso sono gli avvocati delle parti civili no lega ambiente l'arci gay così il daniela ciancimino di lega ambiente l'avvocato dice di maio ha detto che venivano a conoscenza dell'avvenuto ordine di sbarco attraverso i tweet di salvini insinuando le responsabilità unica del viminale in realtà di maio non è che lei sapeva dai tweet quello è al governo insomma che lei sapeva dai tweet di salvini dai ecco accoglierete no accoglierete ha invece presentato richiesta finché venga ascoltato come testimone l'ex magistrato luca palamara perché lo vogliono ascoltare come vanno contro salvini vogliono ascoltare luca palamara che va a difesa per salvare la faccia sta cercando di andare a difendere Matteo Salvini dice l'ho sbagliato non lo faccio più insomma salvini dice deciderà il giudice per il momento io leggo il libro che ha scritto sallusti e palamara e rabbrividisco a fargli eco e la buongiorno che dice noi siamo interessati ad approfondire non vorrei che calasse il velo su quei fatti ma ci saranno altre sedi per farlo al momento il nostro interesse è quello di chiudere questo processo accantonata invece l'ipotesi di ricusazione del giudice ventilata da qualcuno dopo che lo stesso era stato trovato a pranzo in un ristorante di roma nonostante i divieti ma questo non c'entra assolutamente nulla il prossimo ad essere ascoltato sarà l'ambasciatore maurizio massagli il 5 di marzo che c'entra l'ambasciatore lo sa solo io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti